Buongiorno da Fiumicino Online, siamo qui con il candidato per le prossime elezioni comunali che si terranno il 14 e 15 maggio, l'avvocato Giuseppe Piotor Cicollo, candidato per Forza Italia. Che cosa l'ha portata a scegliere Fiumicino per la propria candidatura? Mi piaceva la sfida di misurarmi subito nella politica dell'amministrazione e fare di una potenziale città una vera città. Cioè Fiumicino è una realtà piena di potenzialità e questa è la sfida. Io credo che un buon politico si deve subito misurare su questo e saper amministrare, perché per poter fare politica devi amministrare e Fiumicino è una realtà che secondo me ha tutte le caratteristiche per essere trasformata da quel paesone che purtroppo oggi è, lo dico con grande dispiacere, a quella vera città che merita di essere perché ha tutti i numeri per essere questo e questa è la mia sfida. Qual è la sua visione di Fiumicino per i prossimi 5 o 10 anni? È quella di fare una nuova realtà, una Roma sul mare. Una città come potrebbe essere Barcellona, cioè una città che compete con Roma avendo le caratteristiche di essere una realtà sul mare. Quindi una vera città, come ho già detto prima, che attrae turisti e che valorizza le sue potenzialità. L'ho detto anche in vari discorsi, è una città che ha insieme il fiume e il mare, il lungo fiume e il lungomare. È una cosa bellissima e merita davvero di essere valorizzata. Quindi questo io voglio, voglio che sia una grande città, Fiumicino, che offra servizi ai cittadini, che offra quei servizi che oggi non ha e che sia totalmente autonoma da Roma, perché lo è di fatto dal 1992, ma di fatto è rimasta sempre asservita a Roma. Quindi autonoma, una città autonoma. Perché ha scelto Mario Baccini come possibile sindaco di Fiumicino? Perché in questo momento soltanto una persona come Mario Baccini, una persona pragmatica di centrodestra, che non persegue ideali, diritti astratti, cose che appartengono all'iperuraneo della sinistra, c'è bisogno di un governo di centrodestra. È il governo che vuole fare i ponti, è il governo che vuole fare i porti, è il governo che vuole fare le strutture, è il governo del fare. E Fiumicino, per essere una città, ha bisogno di questo, della politica del fare. E solo il centrodestra può dare questo. E Baccini è l'espressione del centrodestra. Abbiamo qui anche l'onorevole Mussolini, che appoggia la candidatura dell'avvocato Torcicollo. E a lei chiediamo, visto l'appoggio importante che viene a dare a sostegno dell'avvocato, qual è il valore aggiunto, secondo lei, del candidato in questione? Io prima di tutto conosco già Giuseppe da tanto, sono venuta qui anche con Bezzi, che vedi che sta guardando un altro cane. Perché? Perché è un fatto anche familiare, di conoscenza. Sosteniamo Baccini, io Mario Baccini lo conosco da tanto, già quando stavamo nel Popolo delle Libertà. Io vado a istinto, io con le persone vado a istinto. Di questo non ho razionalità né il raziocinio delle volte. Quindi a istinto se una persona mi piace, mi piace. Con lui già abbiamo legato, abbiamo fatto anche le regionali. Dico, Fiumicino è fantastico. Adesso, quando ho finito qui, tu parlavi dello struscio che si fa, che c'è il fiume, c'è il mare, c'è tutto. Non c'è solamente l'aeroporto, tra l'altro è uno dei migliori. Tra le altre cose, devi andare a vedere quello che succede nelle altre città. Tra le altre cose, io sono al Parlamento europeo, quindi il Parlamento europeo significa fondi, significa bandi, significa strumenti importanti proprio per i comuni. Quindi bisogna, oltre a fare tutte le cose che ha detto Torcicollo, ma anche creare degli sportelli per la programmazione, l'aeroprogettazione. perché i bandi vanno presi, io come dico adesso che c'è il PNRR e tutti i bandi e i fondi, catch them all, prendiamoli tutti. Quindi viva Fiumicino, viva Baciugni e vai a Torcicollo. E viva Alessandra Mussolini, veramente. Grazie ad Alessandra di essere qui con noi e del sostegno che ci vorrà dare. Grazie.